Musica Ciao a tutti! E benvenuti da Tina e Poi di U E oggi siamo qui con i bellissimi The Epic Animals Catua dei ghiacci Sì, questa nuovissima collezione della D-Amix Che ci avete richiesto in tanti Quindi siamo molto contenti di farvela vedere, di recensirvela E appunto questa nuova collezione bellissima di tutti gli animali dei ghiacci Allora ragazzi, come potete vedere Ne abbiamo già aperti un po' di bussine Vero Pippo? Sì Ne abbiamo già aperte 12 Quindi qua abbiamo 12 animali E poi... Anzi, anzi, 4 Ma di cui può? Ma di cui 4 solo? In teoria, perché c'è la collezione formata da 14 Vero Pippo? 6, 8, 10... No, da 16 Pippo Quindi siamo in tutti! Sì, 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 16 creature Ok, quindi noi ne abbiamo 12 più 4 pacchi Quindi speriamo di completare la collezione E la bussina è così Ed è bellissima Lina, la cosa cado, non so Eh sì, vabbè Il lupo non sta tanto su Allora, io direi subito di... Vabbè, vi facciamo vedere magari la bussina Poi diciamo i nomi di quelli che abbiamo trovato Allora, cerca gli animali Epica animale Catture di ghiacci Scopri la mia storia Dice appunto L'animale Dai 6 anni in su Ok, il prezzo è 3,50 euro Eh, io ho 6 anni pettine Ma non apriamo l'interno No, anzi, ti faccio le mie cose Eh? Facciamo una cosa per il pasto Tu fai vedere tutto Ma fai vedere tutti gli animali E io li apri No, no, le apriamo in diretta Prendoli, prendoli No, 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 le apriamo in diretta Dai, con gli animali Così vedono anche loro E qua, Pippo Che cosa abbiamo? 600 booklet Abbiamo praticamente Ritagliato Strappato Dai booklet Dei 12 animali Che vedete qua Delle parti Ovvero i loro poster Wow Cioè in ogni booklet In ogni magazine Che troverete Insieme all'animale Dentro la bussina C'è il poster Proprio dell'animale Che avete trovato In quella bussina Ad esempio c'è Questo qui Il beluga Io e Pippo Ce li attaccheremo naturalmente Oppure La balena Della Groenlandia Se non sbaglio Quando abbiamo In me C'è il sito Cioè quando abbiamo fatto La challenge Degli squali Eh? Anche lì ci hanno I poster Sì 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 Magari vi mettiamo Il link Dello squalo Dello squalo Bianco Dello squalo Mantello Di tutto Tantissimi Allora Vi diciamo adesso Un po' I nomi Allora Pippo vai Inizia con Lui Che Il leopardo Delle nevi Che Si illumina Al buio Vai Falla vedere E questo è quello L'ho trovato io L'ho trovato Pippo Prima Infatti vedete Che è un po' Trasparente Quindi si illumina Il buio Questo qui Poi Quello lì Ma aspettate Qua non c'è tutta la ciclista Prendo il No Sì Ma non è tutta questa Quello che hai tu in mano Però adesso c'è Il pulcino di Pinguino Imperatore E questo qui Speciale Perché è trasparente Con sfere Gel Falla vedere un po' Le sfere Pippo Bravissima E fai vedere C'è il pinguino Così Ma è veramente Apera L'ho trovato Poi Pippo ha un po' Di tosse Poi Questo qui Che c'è qui Si È il pinguino Crestato Vai Falla vedere Non si vede C'ho la cesta Tutta Guardate che bella Cresta Che è molto Fashion C'è il beluga Il beluga Bellissimo Vai Falla vedere Di un bianco Meraviglioso Alleluia Nananalleluia Poi Il lupo Sì Poi lo lì È il lupo artico Che si illumina il buio Sì Bellissimo Poi c'è Lui Che già ad esempio Non c'è In questo Booklet Si però penso che 50 dollari spaziali Sono tutti Uguali Qua i booklet all'interno Quindi come facciamo a sapere il nome Facilissimo A parte che l'abbiamo trovato Quindi Ah è questo qui che ho in mano La balena della Groenlandia Bellissima Ma si rimanono Sono veramente grandi E' questi animali Pippo Sì Eh Qui dopo c'è Il fratello d'Italia Con due zanne C'è il tricheco Bellissimo tricheco Buono ciucciottoso Con le due zanne Poi Lui invece E non c'è Qua il nome Aspettate Lo cerchiamo Ah bravo Tu cercalo Così intanto Gli dico Quelli lì Che abbiamo Qua Allora Abbiamo trovato Vediamo Lui c'è No Lui qual è già? L'orso polare Quello che Cambia colore In acqua Con ghiaccio Bellissimo Eh già Appunto Il protagonista Bravo il protagonista Perché infatti Con le bustine C'è il proprio L'orso polare Bravo il poster Pippo Guardate Come è organizzato Pippo Ed è veramente Bellissimo Poi sono squisciosi Sì Ormai Io non ando Quello stesso Ah bravo Lui ci manca Allora Il cucciolo di foca Della Grellandia No Bellissimo Non si vede Da quanto tempo È troppo bella La foca È un animale Che mi piace tantissimo L'ho già trovato No È questo Sì Sì E l'elefante marino Infatti Prima Avevo visto Appunto Vedete Alla proboscide Proprio ricorda L'elefante L'elefante marino Bellissimo Oh ci manca lui Pippo Quindi Loro due ci mancano Quindi cercali pure Sì Sono questi Ok bravo Allora Il capodoglio È questo Ovvero Guardate che Denti Ma non ce l'abbiamo Questo il poster È già Ne è rimasto uno Ne è rimasto uno Qua e sarà No Non è quello Ci siamo persi un poster Ragazzi È il L'abbiamo trovato Pulcinella La pulcinella Di Maè Bravo La pulcinella Di mare Facciamo vedere anche il poster Va La foto che Proprio dal vivo Di questa pulcinella Di mare Meravigliosa Bella Che l'hai fatta Nei minimi dettagli Allora ragazzi Abbiamo Tutte Queste Bostini Le due a testa Naturalmente Di secondo Le due a testa No Vai L'orca Tempo Prendo le due L'orca Così Se la trovi tu No 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 Ma è il primo Bravo Bravo Bravissimo Ma io ti ho La maglia Dall'orca L'orca Che questo Nel poster è così È bellissimo Che l'orca È un altro animale Che ci piace tantissimo Guardate cosa c'è E Eccola qua Meravigliosa Dove l'ho messa l'orca Ma è in alto Anzi Facciamo Vedere il booklet Che è così Ed è molto bello Sono molto belli I booklet della Dina Mix Perché hanno tante informazioni Ci sono bei informazioni Di sol polo Di tutto Di più Sì Dell'artide Poi Spesso nel tempo Ok Poi c'è la checklist Perfetto È completa qua Ok L'unicorno Dei mari Poi ci sono Degli esperimenti E tanta curiosità Quindi leggetelo Mi raccomando Così ampliamo La nostra cultura Che fa Solo bene Allora Ah lui Però non ho visto Come si chiama Vabbè Non c'è È il bisonte È il bisonte Artico Ma io ce l'ho La giornata Non voglio Vai Pippo Aprila da qua No 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 C'è la apertura Non salvano le cominci Facciamo scambio Vai facciamo scambio No 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 Allora In teoria Dovremmo trovare Due doppioni Perché la collezione L'abbiamo trovata tutta No No è formata da 16 Ah è vero È formata da 16 Sudate ragazzi M'era persa Wow Due uccelli L'abbiamo trovato Allora il mio Vediamo un po' Si chiama L'aquila pescatrice Di stelle La mia La mia si chiama Gufo Delle Nevi Bravo Letto Pippo Gufo delle nevi Che secondo me È speciale Si illumina al buio Secondo me Sì infatti Si illumina al buio All the snow Ragazzi Mentre gli altri Che vi abbiamo fatto vedere Non ce ne erano Speciali Oh Fili Il cucciolo di fuoco Della Groenlandia Quindi Lui Cambia colore In acqua con ghiaccio Si Ok Io direi di andare a prendere Direi di andare a prendere L'acqua con il ghiaccio Così immergiamo I due che cambiano colore Ragazzi Adesso li facciamo Tutti bagnare Bravissimo Abbiamo notato ragazzi Che c'è anche l'aquila di steller Che si illumina Falla vedere un po' qua Vippo Quindi Cioè no scusate Non che si illumina Che cambia colore In acqua fredda Vai Vippo Piano Piano Wow Vedete abbiamo messo I cubetti di ghiaccio Wow È diventata verde Dove era bianca prima Adesso è verde Adesso mettiamo l'orso L'orso diventa nero No ragazzi Guardate come Cambiano colore bene E la foca No diventa blu No ragazzi Pippo ti piace Ti piacciono Ce ne sono troppo belli Poi naturalmente Mettendoli in acqua calda Comunque Lasciandoli un po' fuori Ritornano dal loro colore Ma sono bellissimi così Cioè non me ne aspettavo Veramente così Bellissimi Bellissimi Ecco qui Tutta la nostra collezione Nel frattempo Io sto ciugando L'acqua L'acqua si la fa tornare Bianca Ma appunto Guardate l'osso E la grigio Ecco è tornato bianco Ma anche la foca Cioè sono troppo belli ragazzi Ve li stra 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 Consigliamo Scriveteci qua sotto nei commenti Quali avete preso Quali avete trovato Perché veramente Ve li consigliamo Sono bellissimi E poi scoprirete Tante cose nuove Leggendo i vari booklet O facendovi leggere appunto Se siete piccolini I vari booklet E imparerete tante tante cose Ti piacciono Adesso andiamo a leggerli Prima ragazzi Vorremmo salutare Alcuni di voi Bravo In particolare Alessandro del vecchio Martina Con l'account Daniela Adriani Elisa Profeta AYJ Emanuele Migliaro Maya Con l'account Maya Poi Ilaria Ward Cuccioli020 Giuseppe Guida Afrina Con l'account Ginger Hall Chanel Famiglia Dove siamo? No perché straniero Penso Chanel Magari scrivincelo qua sotto nei commenti Chanel Chanel Sì Chanel Guevara Poi Giulia Ferlanda Con l'account Giannina Usseio Raissa Capurso Stregone di ghiaccio05 Perfetto In questo video Con il ghiaccio Perfetto Poi Asia Mattia Con l'account Denise Pistolozzi Super Ilaria No Super Ilari Poi Aurora Cosentino Con l'account Ninni Giacalone Poi Miriam Poi Miriam Maili Daniele Con l'account Salvatore Botta Alessia Alessia Alaimo Tommaso Calistri Giada And Baby Giada And Baby Vincenzo Rimauro Enrico Vallin La Super Adri Lol Giada Marchese Poi Emanuele Di Grazia Cuore Ilaria Maria Grazia Vitale Vigita Mabaduge Perere Poi Creazione Alessandra Melissa Blasi Caterina Pazzaglia Alessia Con l'account Alessandro Falbo Piera Con l'account Alma Sanna Sofia Pipitone Con l'account Giovanna De Santo J S SJ SJ KS KSI Ok Poi Mattia Ciolfi 09 Con l'account Giuri Ciolfi Annalisa Ferraro Annalisa Ferraro Luke 007 Michela Guida Giulia Trinca Giada 03 Dani Craft 07 Cico Con l'account Monica Claridi Sal Salvatore Viscardi Rebecca Cacola Counter Re BH Cricri 89 Ivan Di Mauro Edil Idrizi Fabio Marino E infine Maxeri Vidal Maxeri Vidal Quindi ragazzi Vi mandiamo un bacio fortissimo E un abbraccio enorme Mi raccomando Mi raccomando Scrivetevi Se non siete iscritti Ancora al nostro canale E alla nostra pagina Facebook Instagram Che vi lasciamo Qua sotto tutti i link Anche di Twitter Google Plus Quindi Così saprete sempre Le nostre Novità Quindi ragazzi Se vi su questo video Mettete Un bel pollice In su Vai Se siete non iscriviti Anzi Voglio parlare così Se siete non iscriviti No Non iscriviti Tanti 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 E lasciate commenti E sta E sta bomba Bravissimo Pippo Portateci bellissimi commenti Come fate sempre Mi ringraziamo tantissimo E quindi Saluti Tina E poi Ci vediamo Al prossimo video Ciao amici Guardate Giro giro Torno Tascamondo Ciao Ciao